in Sicilia. Caltagirone si gemella con Betlem, l'abbraccio e la solidarietà del comune siciliano con il popolo palestinese, il servizio di Antonello Carbone. Caltagirone e Betlem gemellati, stamani la firma alla presenza dei due sindaci Fabio Rocuzzo e Anna Anania, quest'ultimo ospite della cittadina calatina per una giornata fitta di appuntamenti. Dopo la sigla dell'accordo avvenuta in municipio è seguito l'incontro con il vescovo Calogero Peri, quindi quello con gli studenti dell'istituto Carlo Alberto dalla Chiesa, nel pomeriggio la visita guidata nei luoghi simbolo della città della ceramica. Caltagirone e Betlem insieme si stringono in un gemellaggio che farà da apripista perché tanti giovani, tanti artigiani, tanti commercianti, tanti pezzi della società civile costruiscano cooperazione internazionale, sostegno, aiuto alla causa palestinese. Questo gemellaggio viene in un momento bellissimo perché io ho notato che ci sono tante cose in comune fra Caltagirone e Betlemme. A livello culturale, anche a altri livelli di scambi, anche faremo turistici e abbiamo bisogno anche di un appoggio per portare una pace nel nostro territorio. La linea condivisa, ispirata a valore di pace e solidarietà, sarà la base per avviare rapporti di collaborazione fra le due comunità, per strutturare progetti multiculturali anche all'insegna della tradizione presepistica.